Studiare per sapere, succhiare qua e là infinite cognizioni che si dispongono prezioso miele nell'alveare del nostro cervello. Penetrate nel mondo misterioso della vostra intelligenza prendono il loro giusto posto in apposite cellule e tutte assieme formano un patrimonio inestimabile che nessun ladro potrebbe rubarvi. Ah un momento, un ladro c'è, eccolo, il tempo. Dove era ordine ricchezza ora è miseria, caos, esolazione. La più semplice ed umana delle circostanze può rivelarcelo all'improvviso. Papà, cosa vuol dire corimbo? Corimbo, corimbo. Sì, corimbo. Cos'è corimbo? Corimbo. Ma cos'è corimbo? Corimbo, corimbo, corimbo. Corimbo. Nei domini della nostra cultura sembra discesa una notte senza fine, ma è improvvisamente la luce. Una luce che ridà ad ogni cosa le sue giuste sembianze, il suo esatto posto. Una luce verso la quale corre la nostra ansia di sapere. Papà, allora cos'è corimbo? Infiorescenza, consistente in un grappolo raccorciato verso la sommità, in modo che i fiori si trovano quasi allo stesso livello. Ecco un amico prezioso, pronto in ogni momento alla consultazione. Il dizionario enciclopedico Sansoni, che riunisce le prerogative di un dizionario e di una enciclopedia, con le sue 4.700 pagine, 100.000 voci, 6.000 illustrazioni e tavole a colori. Il dizionario enciclopedico Sansoni è indispensabile a tutti voi e necessario ai vostri figli che studiano. Potete acquistarlo nelle migliori librerie, anche a rate di mille lire al mese. E partecipare in tale modo al concorso indetto tra i sottoscrittori del dizionario enciclopedico Sansoni, che prevede dei viaggi premio nelle maggiori città del mondo. Grazie.